Musica Bella a tutti ragazzi sono Zanzo, bentornati sul mio canale Oggi siamo finalmente tornati a una settimana di distanza nella Spacecraft Sempre in compagnia del maestro Marcus Kron Bella raga, buongiorno buongiorno E ragazzi oggi partiamo subito con una sorpresa Abbiamo terminato la stanza Oh yes Ho dovuto, allora ragazzi ho utilizzato il marble Vedete il marble, quello che abbiamo trovato nei vari episodi L'ho utilizzato praticamente tutto Ho usato una roba come sette stack per fare le pareti E poi la moon turf che l'ho scavata qua in giro Finendo un sacco di picconi d'inferno naturalmente E ho fatto il tetto, il tetto semplicissimo Non ho voluto fare una cupola perché ragazzi se no ci perdevo la vita E Marcus oggi mi ha fatto questa altra sorpresa Che non so che cosa sia però Allora io ho fatto una piccola stanzina Ok Che adesso è illuminata Sì Ma l'ho predisposta per essere un mob spawner e un mob grinder Moddato Ok Quindi se tu vuoi Possiamo fare questa parte Oppure mi dicevi pure c'era un altro piccolo problema Esatto ragazzi c'è un piccolo problema Noi non ci stiamo dando peso ma inizierà a essere abbastanza importante Non abbiamo cibo Dobbiamo farci una qualche farm Esiste una farm automatica qua In realtà adesso ancora non abbiamo la possibilità di sbloccare Ma c'è una farm che è qualcosa di spaventoso per quanto è veloce Ok Ma possiamo fare Che è un po' più tranquilla La farm di questa mod qui Della progressive automation Ok Che è il Vediamo se si scrive farmer È farmer Wooden Ah no Questo è l'animal farm Aspetta Dove sei? Sono fuori In balcone In balcone Vabbè Fuori dove? Ah qua fuori Sono fuori vicino alla farm Stavo guardando pure quanto ho fatto Ho fatto tre stack Tieni Che mi dai? Ah Le mele Otto mele Otto Otto Ce n'ho Otto io e Otto te Poi io ho quattro Attos danno le mele due Mamma mia che cestezza Eh vabbè Sempre meglio che niente Allora c'è il planter Sì Che è quello che in automatico planta Se non sbaglio E in questo caso Per questa mod dovrebbe togliere direttamente Dovrebbe fare tutto lui Ma è in un ramo di quest particolare o no? No 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 Il ramo di quest ti ha detto Il ramo di quest ti ha fatto vedere che Con la Con questo Col chopper Puoi fare tutti e quattro i livelli Poi state Vedere che ci sta il planter Ah ok E tra l'altro possiamo metterci tranquillamente Possiamo mettere tranquillamente qui anche Magari se gli vuoi dedicare una fetta All'area farming Quella più vanillosa Ah ok Dici nella zona dentro Quella nella cupola Tra virgolette cupola che ho costruito io Vuoi tenermi fuori? Ma io direi Teniamola Allora Se possiamo farci un orticello piccolo Direi di farla in casa Perché in qualsiasi momento la raggiungiamo senza problemi Yep Perché se fuori poi andiamo e ci sono i mob Tra l'altro mi sono ricordato Adesso Che avevamo una spada in diamante Noi Ce l'ho io in mano adesso Una quest ce l'aveva data la spada in diamante Infatti è nuova Mai usata Niente A sto punto Io direi Concentriamoci un attimo sul farming E poi se riusciamo Facciamo qualche altra questina Perché comunque ragazzi Questa serie Finirà quando Avremo naturalmente esplorato tutto l'universo E secondo Quando avremo finito tutte le quest Poi ci saranno delle Tipo degli episodi Dove farmeremo questa manetta Quando avremo tipo tanti materiali E quindi Voleranno gli episodi Difidatevi Farm Allora serve la dirt Questo sicuro Giusto? Serve sicuramente la dirt Ok io Di che lo vuoi fare? Vuoi fare di diamante Di ferro Di ferro? Io direi di farlo di diamante Traierdiamo Di diamante Ma si tanto ne abbiamo tanti Quindi ci serve Il ferro La stone Sicuramente Io scavo qua la zona intanto Ok nel frattempo tu stai farmando Io sto prendendo Sto facendo quello base Quello di legno Io controllo Ah nel frattempo Quando sono entrato Per costruire la stanza Questa Tutto quello in avanzo Che avevo L'ho piazzato qua dentro Nel setaccio Ah buono Così almeno Mi ha dato un altro diamante in più Poi abbiamo tanti materiali Ragazzi che utilizzeremo Eh si Li utilizzeremo Eh si Considera che del ferro Non credo ce ne sarà mai Abbastanza in questa serie Esatto Per esplorare Per iniziare Iniziare ad esplorare Lo spazio Ci serve sicuramente Ferro Io ho tutta la moon dirt E la tarf Che ho raccolto adesso L'ho buttata là dentro E' come se fosse un inceneritore L'inceneritore è vanilloso Cioè l'inceneritore è vanilloso E tutte le cose in più Che non ti servono Le butti nella lava Qua le butti nel setaccio Perché almeno le perdi E ne ricavi i materiali Vedete Yes Se proprio c'è qualcosa Che non puoi setacciare Che devi buttare Esatto Le mod aggiungono Un cestino dei rifiuchi Che bello Che se tu ce lo infili Cioè ce l'infili dentro la roba Si distrugge automaticamente Allora Io ho fatto Serve la zappa Serve qualcosa Sicuramente Aspetta ti dico che serve Dopo quello di wood Di wood No non mi dire Sono Sono un pirla Ho fatto il chopper Abbiamo un altro chopper Zanzo Eccolo qui Lo mettiamo qui per sempre Ci sta dai Come si chiama C'è anche così C'è anche così Io nel frattempo Vado un attimo In modalità vanillosa E faccio delle cose Serve Serve anche la Come si dice Cosa ci serve Serve l'acqua Anche immagino giusto Si 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 Ok Secchio 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 Non ne abbiamo di secchi Mi sa Bisogna craftarcelo Tra l'altro Una sera Devo entrare lì dentro Perché dobbiamo Cioè dobbiamo buttare Tantissima cobblestone Lì dentro Hai visto Facciamo quel Generatore di cobblestone Che abbiamo fatto Te l'altra volta Lì Lo facciamo invece Finire dentro al decomposer Ok Quello In modo che tiri fuori Talmente tanto Silicio Giusto Silicio Non silicone Per poter fare La send Perché qui La send Ci manca tantissimi Tra l'altro C'è stato uno Nei commenti Che dice Che ha detto Durante i 99 episodi Della sua serie Marcus ha sempre detto Silicone E poi arriva Zanzo E gli insegna A dire silicio Ma chi è dei due Il maestro Te sono volato via Quando l'ho letto C'era ragione Ragazzi io leggo Silicone Ah sì Silicone Anche se Non serve Non lo so Se serve o meno Visto che nel moddato Non so se l'acqua serve Per le farm O roba del genere Io ce la voglio mettere lo stesso No no serve Serve Ok Ti facciamo Oppa la lai Pa 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 Guardate qua Farm Acqua infinita Oddio Ho sbagliato a piazzarla Potevamo farlo in diamante Però Adesso lo faccio in diamante Voglio soltanto vedere Dove si mette Aspetta Molto bene Molto bene Perché Ah perché è vero Come la dicevi l'altra volta Può essere messo sopra o sotto Eccetera eccetera E secondo me Il nostro amico planter Va a livello del terreno C'ho questa sensazione Quindi stavo facendo un po' di test Ok Vediamo un po' Nel frattempo Ti anticipo dicendo Ti servono i semi Ce li hai già Nei già tanti Io ho 9 semi Però Se vai a vedere Nel cesto C'avevamo un sacco di robetta Di roba pure particolare Anche se vogliamo piantare di cactus Le carote Le carote Le carote molto bene Anche il patataus Ce l'abbiamo Le patate Sì due Due ne abbiamo Le patate Io piacerei patate E carote Perché il grano Mi sta in culo a me Perché il grano Devi raccogliere il grano Per farti i panini Ma vaffanculo Fatti le patate Che ti ridanno tre di fame Quando sono cotte E apposta Concordo Assolutamente Quindi mi stai dicendo Se ho imparato bene Noi abbiamo Questo strumento Che ci autopianta Le cose Quando crescono Le prende anche Vogliamo fare un test Ci mettete il bombillo E vediamo se lo Chiappa subito Tanto il bombillo Ce ne abbiamo Il bombillo Ne abbiamo un sacco Raga Ne abbiamo veramente Un sacco Ce l'ho preso Pianta Faccio crescere Ma si ma si Oh è saltato via Guarda E' volata E' volata via Lo sai perché Si Perché c'è una mod Che se tu ci clicchi Con il tasto destro Ah ok E lo prende Quindi fallo preciso Ok Attendiamo Ah tu l'hai messo sotto Si Va sotto il malefico Uh Perfetto E come facciamo a raggiungerlo Ah bisogna lasciare il buco Si e poi Io spero di riuscire a fare I tubi anche Ecco il cavo Ah è vero è vero I tubi Che portano gli oggetti E finiscono tutto Dentro il nostro svistamento centrale Eri guardate quante ne faccio già Ah ma Restano piazzate per sempre Cosa E' bellissimo Ah si E' una mod E' bellissimo Si chiama Harvest with right click E' bellissimo Guardate raga E' spettacolare E se c'hai il bombillo in mano Eh si 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 così E' bellissimo Mi sono dimenticato la zappa di diamante Vabbè adesso ce la andiamo a mettere Vado a farla io dai Va a farla lei? Si si vado io a farla Non si preoccupi dottore Vadi vadi Non ci incischi Scusate se mi odierete Perché Giustamente mi dite Ma se lo facevi da di là Riuscivi Avevi già tutti i materiali Però La modalità vanilla Si prende Si prende Come si dice Il comando nel mio corpo Quando devo craftare le cose Perfetto Ci mettiamo un combustibile Lui adesso sta cercando Ha già preso tre patate Si Molto bene Credo di aver esagerato con Forse ho sprecato un po' di diamanti Te so Perché 64 di raggio Ma si ma poi il massimo Lo allarghiamo Ma va bene Ma si ma poi Gli upgrade di diamanti Li possiamo utilizzare Con qualsiasi altra cosa Quindi siamo gli abbastanza scialli Allora Senti Prima di Intanto ho una domanda per te Tu preferiresti Spingere i mob Con dei ventilatori O farli rotolare Su dei tapirulan Anche se non sai La cosa mi incuriosisce Parecchio Sui taribulan Puoi rotolare anche tu Ventilatori Però fa ridere Ti piacciono più Vedere i ventilatori Che gli spingono È bello Ti piacciono più i ventilatori Mi dà l'idea di cosa più comica Vedere i ventilatori Che spingono i mob Va bene Ok Ok Allora Se facciamo Te lo faccio vedere a te Così Vediamo tutti i casi Se scrivi fan C'è la resaip Dell'open block Per il ventilatore Quello il secondo da sinistra Ok Che è abbastanza facile Se ci pensi È un iron bar Ah sì 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 Ok Lo devo fare Perfetto Ok L'ho fatto eh Vai Fanne tanti Fanne tipo Che ne so Una trentina Così tanti 16 posso farne 16 vanno benissimo Vanno benissimo Ok Non fatti 16 Vai Allora Rimani lì davanti No rimani lì davanti Mettiamo una leva Oh donna È forte comunque La resistenza Eh sì 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 Non tanto da opporsi Al player Ma ai mob invece Allora quindi io ho fatto Questa zonetta qua sotto Quindi adesso stiamo facendo Pure il cibo Sì Perfetto Per il Per il drop Sì Effettivamente Ha visto l'altra volta Ci serviva Non mi ricordo Tipo una string Siamo dovuti uscire C'erano i creeper Ho fatto questa stanzetta Perché Quando è giorno Il giorno dura tantissimo Ok E non c'è Mob spawning Cioè non sponano i mob Esatto Quindi se io faccio Una stanza buia A un pochino di distanza Da noi I mob sponano Esatto E basta metterli Così E se non sbaglio Anche uno soltanto Alla volta E poi è partito già Perché sono una persona Talmente previdente Che ho messo già le leve dietro Io già sapevo Quello che sceglievi Ah Signora Longari Attenzione Oddio Adesso però Guarda che non riesco Ad andare in avanti Anzetta Ti spiego le leve Non riesco Le spiego Ok posto posto Figa Però tutti insieme E fanno E fanno il loro lavoro Eh sì Perfetto Due qui Oddio scusa Dove Ho fatto Un cazzotto fa volare Due qui E due qua Ok E noi dobbiamo stare in prossimità Per farli nascere Ma fuori giorno e notte Perché c'è fuori notte Anche qua Penso qua giù Tu che lo sai Tu le sai le regole È notte 128 blocchi 128 blocchi Allora è il chunk E ha un 128 blocchi di altezza Massimo tipo Cioè se tu Ti alzi di 128 Più blocchi Neutralizzi lo spawn Di tutti gli altri chunk Ok ma quando Quando è che spawnano Cioè Teoricamente Quando sei vicino Nelle vicinanze Ops E niente Ormai ci continuiamo A picchiare Non c'è niente Secondo me perché è giorno No perché è giorno No scusa è notte Perché è notte Quindi sono spawnati anche fuori Quindi la percentuale di spawn Lì dentro È diminuita Esatto Allora vabbè Lasciamola fare Però Hai notato che c'erano I ventilatori che davano Su una parte E poi i due ventilatori A destra e a sinistra Che ti portano al centro Perché li vuoi convergere Tutti in un buco Io voglio convergere in un buco Dove non mettiamo però I danni da caduta O chissà cosa Ma mettiamo le spike S-P-I-K-E Sulla Nei Ok Le iron spike Quelle lì Sì Le iron Possiamo anche fare quelle di wood Ma ci mettono un'eternità A rompere Ok Però penso che ce l'abbiamo tutto Vediamo quanti ce l'abbiamo Le iron 82 Allora poi piazzano una Giusto per Comprendere Madonna Sono grosse Sovoso Mettetici sopra E come il cactus Ma fa 100.000 volte più danni E non distrugge gli oggetti E voilà Perfetto E qui uno chiude Ok Perfetto C'è un'altra cosina Sì Che finirebbe la farm In sé per sé Quindi noi magari stiamo laggiù Stiamo lavorando E là I mob droppano la roba Tra l'altro è anche interessante Perché Se uno scheletro Un mob ti droppa Chi è quello che droppa La spada dorata Pigman Quelli che droppano Le armi normali Ogni tanto Perché nel moddato Ogni tanto i mob Gli danno pure le armature moddate Quindi è un po' strano Ah no Allora qua nel mondo Nel valino normale C'è una percentuale Di probabilità Che un mob Nasca con addosso Un pezzo d'armatura O un'armatura intera O un'arma Ecco tutte quelle cose Noi le possiamo buttare Quelle cose che sono fatte col ferro Possiamo buttare nel sintetizer Ok E ci fa Poi il ferro direttamente Comunque per finirla A te l'ossigeno non lo finisci mai Io lo finisco ogni due secondi No io prima di iniziare la puntata Giochi con un bombolone Però effettivamente vado a prenderlo Eh no li ho usati tutti i due Io li ho appena messi a caricare Mi dispensato La prima morte Ossigeno 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 Dove sono morto? Cioè ci dovresti avere Una sorta di Di mappina no? Ah qui non c'è Eh no Guarda qui c'è la tua tomba Dovrebbe stare qui Ah ok No aspetta non è questa Dove sei morto? Eh dove sono morto? Dov'è che sei morto? Con tutte le tue Eccola Eccola Aspetta ti salvo da questi Anche se mi stanno per uccidere Devo romperla A mano A mano Ok Oddio tutti i tuoi oggetti Volanti Zalzo non muoia Zalzo non muoia Corri 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 Io ho tre di vita Due di vita No io sto prendendo un sacco di danno Sto prendendo un sacco di danno No più che altro che devo rimettermi su tutta la roba Ok io sono entrato in casa Oh ok Ok Allora aspetta Niente enderman per noi Questo Questo Ok Ah ossigeno A questo punto io Mi sono andato giù E mi sono ricordato Che è un po' di silicio Sì Te l'avevo fatto E abbiamo Otto di glass Perché il glass? Perché col glass finalmente riusciamo a fare i pannelli Oh 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 Ma ristronazzi qua Oh 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 Ah fangula Gita a morto Ti ho tirato i glass panel Ok Mettili in A body crochet Nella crafting table E agli angoli ci metti L'iron Ok Fatto Relocator Finalmente riusciamo a fare Una delle cose che secondo me è È forse la cosa più bella del moddato ragazzi E io che dico qual è la cosa più bella del moddato è strano Perché ci stanno un sacco di cose belle nelle mod di minecraft Alcune sono spettacolari Alcune sono meravigliose Effetti magici Razzi Quello che per fare Però Adesso Zanzo ha fatto C'è i suoi tubi in mano Qui c'è la nostra farm La cosa bella del moddato è che quando fai una farm ti ricordi la prima puntata che ti ho detto Dopo un po' Quando hai tutto Ok Non ti serve più neanche toccarla E quindi a me non serve più Cioè vieni qua sotto Sì Non ci servirà più Di andare a prendere la roba Perché adesso tu ci piazzi quel tubetto là Sì Gli fai fare C'è lo piazzi Ok perfetto Gli fai fare il tragitto per tornare indietro Quindi dove Siamo noi Ah i tubi Wow E lo fai salire qua sopra No Così sì Eh però aspetta Blocca l'acqua Blocca l'acqua Con un blocco Aspetta lo faccio io No no blocca l'acqua Ah blocca l'acqua Ok Sì sì Hopperà hopperà Perfetto Qui sopra ci mettiamo una chest Eh tutto va a finire qua dentro E adesso facciamo un canale di qua Così si vedono gli oggetti che si muovono E ci va In questo In questo Ce l'hai una torcia di chi lo sto? Sì E ci va un upgrade per dirgli Estrai Ok Allora adesso non c'è niente dentro Ma se ci fosse Io ci ho messo le nostre Le nostre Aspetta ci mettete le patate Che ci possiamo mettere dentro questo? Il ferro Guarda il ferro No Bellissimo Bello Raga no bello Quindi Adesso Che il Che c'è una farm sul server Questa farm come quella del legno Noi non dobbiamo Qui possiamo chiudere Cioè tu Così spavi anche un bel po' di spazio Aspetta aspetta Vai 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 tranquillo In realtà questa chest Te la puoi decidere dove metterte Dove metterla Puoi anche metterla qui Che ne so Facciamo così Facciamo Quindi Qui dentro Cioè noi giochiamo Noi facciamo la cosa Ci serve del cibo Andiamo qui nella chest del cibo E troviamo E poi Tutto il risultato Dalla chest Della farm tua Noi dalla chest possiamo Con degli hopper Tipo Sì Far sì che vada a finire dentro la fornace In automatico In modo da cuocerli anche Se tu prendi Al posto della chest Ci metti la fornace Ah ok Va direttamente Ti entra direttamente Sì È molto bene così È una figata È una figata E tutto sarà così ragazzi Tra l'altro tutto sarà ancora meglio Nel senso che Invece di mandarli in tante piccole chest Lo mandiamo Ai barrel Direttamente E si autodistribuiranno Perfetto ragazzi Questo sesto Sesto sì Episodio della serie Spacecraft Termina qua Finalmente ragazzi Abbiamo Il cibo Finalmente Finalmente Abbiamo fatto Poco rispetto agli altri episodi Però era fondamentale Fare del cibo Avere del cibo Per il proseguo di questa serie E anche perché ragazzi Vorrei ricordarvi Che fra due Barra tre episodi Inizieremo A fare la nostra Esplorazione spaziale E se non hai cibo Dove vuoi andare Da nessuna parte Anche se non hai l'ossigeno Dove vuoi andare Esatto Soprattutto Io vi invito A lasciare Naturalmente Un bel like Superare i 2000 like Come in tutti gli episodi Addirittura Quello di settimana scorsa Ragazzi Ha fatto 21.000 Views In 24 ore È una cosa incredibile Ragazzi Stasera stando Da Dio Da Dio stando E vi ringrazio Ringrazio anche Marcus Che ha accettato la mia proposta E mi sta insegnando Tutte queste cose Che mi serviranno Probabilmente in futuro Per altre serie moddate Che farò da solo O in compagnia di qualcun altro Ti voglio vedere Giuro pagherei Preparati vicino al telefono Con Telegram Che scriverò tutti i giorni Quindi ragazzi Supriamo i 2000 like Anche in questo episodio Lasciate un commento Scrivendomi Cosa vorreste vedere Nel prossimo episodio Sarà il settimo Quindi domenica prossima Iscrivetevi al canale Se avete fatto Passate in descrizione Trovate oltre tutti i miei social Anche il canale di Marcus Qui da Zanzo E Marcus È tutto Un bel saluto E Perla Perla